Intanto buongiorno a tutti, sapete già perché la notizia è stata diffusa stamattina, il mister per il progetto del campionato sarà lui, Gaetano D'Agostino, se non sentite il progetto, ma io ho una voce che sta andando via. Diciamo che noi come società siamo felici di aver ingaggiato lui, un po' che stavamo dietro, tra volte avevamo deciso di farlo venire ma lui mi pare già impegnato e quindi non è stato possibile. Noi speriamo che lui faccia felice noi, noi facciamo felice lui, quindi voglio dirgli che sapendo chi è, sapendo che persona è, conoscendo che è una persona diretta, io vi posso garantire che quello che lo spogliatoio oggi chiedeva a un allenatore che abbia dei contatti diretti con loro, quindi che gli dica le cose come stanno, che non gli dica qualcun altro o si sa in giro e basta. Quindi io vi posso dire che il mister è la prima cosa che ha detto ai giocatori ieri, che lui è una persona diretta e che è una persona leale e quindi parlerà con tutti per quello che va bene o per quello che va male, insomma, tanto per essere chiari. Penso che non abbia bisogno più di tante presentazioni perché a parte che lui era un bravo giocatore, adesso non so se riesce ancora a tenere a finiziare una volta, penso che faccia fatica e quindi siamo felici di accoglierlo nel calcio mecco, se volete fargli delle domande ho a vostra disposizione. Prego, ci ripresentiamo così al mio ministro. Ben arrivato, arriva in una situazione, come spesso capita in questi frangenti, non semplicissima perché la squadra ha qualche problema dal punto di vista della classifica e il tempo per arrivare alla prossima partita è abbastanza limitato, lei è arrivato ieri, come pensa di improntare questi pochi giorni che mancano all'esordio, tu, il panchino e la partita di Busto che è una partita importante? Sì, so che è anche una partita sentita e poi l'importanza dei tre punti è sempre importante al di là della squadra che si va incontrare. Di sicuro abbiamo lavorato un po' in questi due giorni, oggi il secondo giorno è sotto l'aspetto mentale perché è troppo ravvicinata la partita, quindi ho dato alcuni concetti ai ragazzi ma secondo me poi metterne troppi si potrebbe creare un po' di confusione. Ho lasciato delle sicurezze che loro hanno di sicuro l'approccio che puoi vedere deve essere un approccio fondamentale, a me piacciono le squadre che vanno a dare dire avanti, le squadre propositive perché bisogna uscire dal campo, come ho detto i ragazzi, consapevoli di aver dato tutto e di aver provato a vincere la partita. Poi quello che sarà il risultato lo prendiamo e cercheremo di prendere qualcosa di buono. Crediamo di vincere, crediamo di portare a casa i tre punti perché le partite vanno affrontate mentalmente con lo spirito sempre di uscire a campo con il bottino pieno ma non voglio vedere la frenesia di dimostrare che chi giocherà domenica il posto a ripolare perché poi la frenesia nei 90 minuti porta a una mancanza, a un dispegno di energie tale da non reggere e quindi a me piace vedere la squadra che nei 90 minuti mantenga sempre un'identità, poi che giochi a ritmi più alti, a ritmi più bassi questo lo determina anche gli avversari. Una sola domanda, lei aveva già visto giocare in Lecco in un paio di occasioni, credo. Anche tre. Quindi un'idea di un po' di giocatori che ci sono, se le fate insomma. Si, si, no, l'idea me la sono fatta, è una squadra che secondo me deve ancora esprimere il proprio valore, deve esprimere tutto il potenziale che ha. Credo, io fortemente, io credo che le gambe, le qualità all'estero devono essere collegate con il cervello e con il cuore. Perché se il cervello ti dà autostima e acquisisci quell'autostima e pensi positivo, anche quando uno fa un errore cerca sempre di rimediare e di trovare una soluzione, invece di accusare e di fare l'errore poi un fattore negativo per tutta la partita. Perché poi alla fine prendi gol a fine primo tempo, prendi gol a quasi a fine partita. Uno può parlare di sfiga, ma poi se vengono, se le statistiche dicono che sono sempre gli stessi gol, significa che c'è un calo, c'è un accontentarsi che ti fa abbassare la concentrazione e rischi poi di perdere le partite. Quindi noi dobbiamo rimanere in partita per 90 minuti. Grazie. Marcello Villani, la provincia di Lecco, la Gazzetta. Piacere mio. Volevo chiederle se davvero si è parlato in questi giorni in cui lei non era ancora arrivato di liste di proscrizioni, giocatori di fuori rosa, esiste tutto questo? O sono voci sbagliate? Onestamente io ai giornali prima di essere chiamato non avevo letti perché comunque ero vivo a Roma, quindi ho listate giornalisti e poi a Roma, tra Roma e Lazio, si parla solo di Roma e Lazio, quindi le attenzioni sono sempre solo sui loro. Ho visto delle partite, ma come ne ho viste altre, settimana scorsa ero a Bari a vedere vari monopoli, quindi giro perché mi piace aggiornarmi e quant'altro. Di sicuro anche per rispetto dei giocatori mi sono accorto che ci sono 30 giocatori. Li ringrazio tutti e 30 perché mi hanno dato tutti la disponibilità facendoli vedere che ci tengono all'Ecco. È normale che poi io debba fare delle scelte insieme anche alla società, ma per il bene dei ragazzi, perché io credo che un giocatore si chiama tale quando va a giocare e quando va a dimostrare. Quando ci sono delle scelte che vanno fatte un po' forzate da parte dell'allenatore, credetemi io che ci sono passato, non è bello né comunicarlo, per certe tecniche chiamarlo, per le mie di calcio e ne sentissero dire. Però i ragazzi, la società non mi ha detto, mi ha dato la possibilità di scegliere, mi ha detto che sono tutti a disposizione, i ragazzi sono dei ragazzi serissimi, dei grandi professionisti, poi ho chiesto del tempo per poter valutare, per poter portare poi il blocco fino a fine anno. Anche perché allenare 13 giocatori non è semplicissimo? No, non nascondo che non è semplice, sono stato avvantaggiato dalla disponibilità della società, ma soprattutto dalla disponibilità dei ragazzi. Non mi sono accorto in questi due giorni sul campo, onestamente, che c'era un esubero, perché comunque mi hanno dato la disponibilità, addirittura si interscambiavano tra di loro per facilitarmi il compito, però nell'arco dell'anno non è facile, non è neanche giusto per quelli che, tra virgolette, sportivamente parlando, vengono un po' messi da parte per il progetto tecnico. Davide Tagliabue per l'EcoFM, vuol dire ormai, mi piace anche lui. Non c'è un esubero, ma si cercano altri profili sul mercato, sono arrivati Bastrini, Pastore, non so se è ufficiale Strambelli, anzi se c'è, se posso dire una battuta su un ufficioso, comunque. Il mercato è in corsa, è chiuso qui o lei ha richiesto altre pedine? Ci siamo parlati con la società, sembra che sono qua da due mesi, però abbiamo parlato tanto con la società, perché per me è importante il lavoro quotidiano e ottimizzare gli allenamenti, però se io chiedessi oggi alla società dei giocatori che abbiano delle caratteristiche, non si parla più di esubero, si parla di liceo, di scuola elementare, poi si parla di fare classi, fare dei tornei tutti i giorni per allenare tutti i ragazzi, quindi secondo me in questo momento è la valutazione dei 30 giocatori. Poi si parlerà di una scrematura, di scelte tecniche, chi la solita mi ha dato la possibilità di poter scegliere e non lo fanno tutti onestamente, perché ci sono delle società che mi pongono e onestamente vi ringrazio perché nessuno mi ha imposto niente, quindi mi hanno dato la possibilità di valutare e avere il tempo per poter valutare, però se chiedessero società ancora giocatori sarei masochista, perché già sapete che siamo un po' in esubero che giocatori, farne venire atti si creerebbe ancora più confusione. E poi un'altra domanda riguardo al modulo, nel senso che l'Eco in questo inizio di stagione è sceso in campo con due moduli diversi, 4-3-3, 3-5-2, quale strada percorrerà lei già a partire dalla prossima partita che è a brevissima? Se devo fare un favore agli avversari dico 3-5-2, se devo dire a voi, perché poi mi conoscerebbe e cercherò sempre di darvi dei dettagli perché rispetto molto il vostro lavoro, quindi nello scrivere, non sono uno che nasconde, mi piace fare gioco di squadra anche con voi nel senso che comunque ci sono pure gli avversari e dare meno nozioni possibili agli avversari per me è anche una tattica, però in questo momento stiamo lavorando su 4-3-3, ma di sicuro non faccio del mio modello il modulo dove me lo devo portare per 20 anni, io mi adatto alle caratteristiche dei giocatori, per me il giocatore deve andare in campo e deve esprimersi per quello che sa fare, perché solo in quel momento gli posso chiedere un qualcosa in più, se non lo faccio esprimere per le caratteristiche che ha non mi dà né quello né quell'altro, quindi in questo momento parto 4-3, se rispondono bene con 4-3 valuterò perché anche per me è una partita dove voglio vincere, i ragazzi vogliono vincere, però anche per me è una valutazione importante, però poi si può fare anche, ti possono fare tutti i moduli del mondo, l'importante è che il giocatore si esprima al meglio, quello è importante. Matteo Bonaccino, L'Eco Channel News, un piacere. Prima, mister, permettevi di farci una domanda, le due figure di rigenziarie al tuo fianco perché c'è un pezzo che manca a mio parere, soprattutto che Francesco non ha avuto la possibilità di parlare su questa cosa. Due settimane fa eravamo qui per la tua presentazione e c'era una certa fiducia sul progetto tecnico in essere. In due settimane è tutto precipitato e, da come l'abbia vista, è precipitato tutto tra la 1 e le 3 di martedì, quindi tra, più d'altro sembra tra Gaburro e tra il presidente di Nunno. Come l'avete anche vissuto dall'interno questo ribaltone improvviso e dover stringere un accordo con una nuova figura tecnica in tempi brevi comunque? Allora, anzitutto quando inizi un progetto tecnico hai assoluta convinzione in quel progetto, altrimenti non lo inizi. Poi possono subentrare delle tematiche e delle situazioni che causano un cambiamento. Questo è avvenuto, nel senso che comunque la società ha deciso di cambiare in questo senso e oggi è la giornata del mister, quindi preferirei parlare del mister, che non vi nego che oggi c'è grande entusiasmo da parte nostra, perché riteniamo che il mister abbia, è qui perché riteniamo che abbia grandi qualità tecniche, ma anche grandi qualità umane, perché è un professionista serio, preparato, ambizioso e con grande cultura del lavoro. mister, invece il direttore Mario lo prima ha parlato di un inseguimento durato un po' e quindi volevo capire le tempistiche che ti hanno portato qui sulla panchina, magari si parlava anche dell'anno scorso, un po' cioè non so se magari può essere una delle figure che avrebbero ma ti dico la sincera verità, ho capito cosa dire, ma io lo ringrazio, lo sto sapendo anche adesso, perché sono stati secondo me anche bravi a mascherare, io ho ricevuto, io vedevo il Lecco, ma ve lo dico perché sono stato ad Alessandria, mi piace il girone A, ho vissuto sia l'esperienza a Francavilla, stupenda, sono stato al girone A, mi piace vedere un certo tipo di calcio, sono cambiati tanti gironi, il Piacenza è passato nel regione B, in mondo, quindi seguo e il Lecco ha giocato con squadre dove poteva esserci una chiamata da parte del sottoscritto, quindi non pensavo invece, quindi lo ringrazio, ringrazio il direttore che c'era stata un'idea già precedentemente ma non lo sapevo, quindi sono sincero non lo sto sapendo adesso. E questo lo consideri anche un po' l'anno della tua possibile consacrazione, perché ci hanno avuto due esperienze un po' agli antipodi, molto bene a Francavilla, Alessandria è stato anche aspramente criticato. Sì, ad Alessandria, che comunque ringrazio perché l'esperienza a Francavilla è stata positiva, ma non perché ho raggiunto i risultati, ma perché per me è stata formativa come è stata formativa Alessandria e li ringrazio. Come ha detto il direttore, io devo lavorare, non sono allenatore, non ho un modo di lavorare di due ore e faccio allenamento, io voglio vivere l'ambiente, voglio vivere la sede, mi piace lavorare, lavoro dieci ore al giorno, ma non perché mi voglio vantare, ma perché il mio modo di fare, per me le vittorie, le sconfitte e i pareggi passano anche da quanto tempo e da quanto umore dedichi e dalla cura dei particolari. Quindi ringrazio Alessandria per l'esperienza anche negativa, fermo restando che l'Alessandria alle prime 13 giornate eravamo quinti, poi qualcosa si è rotto, se no, al di là di tutto devo essere adesso, fermo restando che la responsabilità nel bene e nel male sul campo me la devo prendere sempre dall'allenatore. Però dico che ci sono altre dinamiche che portano poi a una convivenza più pacifica, tra virgolette, più lineare e io ho chiesto alla società, alla società Lecco di fatemi lavorare, datemi le chiavi per lo stadio, io voglio lavorare. Quindi non mi passa solo il campo, ma io voglio, quando vengo pagato e vengo pagato per quello che faccio con amore da 30 anni, devo lavorare, voglio lavorare perché mi piace lavorare e mi piace stare e vivere l'ambiente. Quando mi viene tolto qualcosa soffro perché non sono in grado di esprimermi al meglio nei confronti della società che mi paga e dei ragazzi che alleno. Poi ha stramente criticato, ad Alessandria ci sta, perché sono stati criticati tutti ad Alessandria, pure quelli che hanno fatto. No, no, io la critica me l'avendo costruito. Diciamo che è una piazza pretenziosa. No, no, a di là che sono i tifosi, sono giustamente una piazza calda, però sono stati tutti criticati e spero che Scazzola e Mister Scazzola possa fare grandi cose all'estate perché è una piazza che merita, quindi per molestando che la ringrazio. Quale sarà il tramite suo, tra lei, la squadra e la società? Prima c'era Tesini come di esse, adesso Filucchi prenderà il suo posto? Questo non dite chi vuole. È il direttore qui presente, il direttore Filucchi. Sono il tramite del Mister con la società, volgo il ruolo di direttore tecnico, poi direttore sportivo, come intendete chiamarlo, nel senso che poi nella sostanza è lo stesso, quindi voglio essere sempre il riferimento del Mister in questi tipi di situazioni perché crediamo veramente fortemente in questo progetto e quindi metterlo sempre nelle condizioni ideali perché possa lavorare bene e quindi assolutamente è così. L'obiettivo di tutti è fare bene, di ripartire alla grande con grande entusiasmo e di metterlo sempre nelle condizioni di poter lavorare bene, come diceva il Mister. Bisogna darsi una mano a tutti nella società perché lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, quindi chi lavora sul mercato, in questo caso io, chi lavora è il Presidente, perché è tutti il Presidente che mette a disposizione tutto e quindi siamo importanti tutti, dal Presidente a tutti gli elementi della società perché lavoriamo tutti nello stesso senso, quindi dalla parte medica alla parte tecnica alla parte amministrativa alla parte di campo, che è fondamentale poi perché si va sul campo a vincere le partite, però si va sul campo a vincere le partite quando si è nella condizione, quando si lavora al meglio, quando si lavora tutti al meglio. Il nostro gruppo e quindi dobbiamo essere sempre una sinergia assoluta, questo è l'obiettivo di tutti, rimanere tutti nella stessa direzione, fare il bene dell'eco e fare un bel campionato. Una domanda in due, il direttore sportivo rimarrà a carica vacante o fracchiolla potrebbe essere un profilo inseribile? Ne abbiamo letto, visto che lo conoscerei decisamente ben avendoci lavorato insieme, due, abbiamo letto anche il nome di Juanito Gomez come possibile ingresso di squadra, chiaramente. Al proposito di Gesù? No, bene, quindi, vista l'occasione, perché chiaramente no, chiedo a... Ah, volevo io? Sì, perché comunque se arrivasse una figura dirigenziale come quella di fracchiolla, chiaramente entrerebbe nel tuo ramo di competenza. No, fracchiolla è un bravo professionista, per sapere che conosce bene il mister, no? perché è stato direttore sportivo a Sancavilla. È una persona che ha accompagnato il mister, in questi giorni non è una persona che fa parte dell'organigramma societario, quindi insomma... Non è destinato ad essere inserito? Se sia destinato ad essere inserito, non lo so. Ad oggi è una persona che fa parte però dell'organigramma societario, quindi posso rispondere è questo. Ma è una domanda al condivisione. No, diciamo che se ne è letto e scritto... Questo ora, chi l'ha scritto, io non posso rispondere di queste cose, io posso dirvi le cose concrete che ci sono oggi, insomma. E su Gomez? Siamo troppi. No, no, su Gomez non è una cosa... non so dove sia uscita anche la notizia di Gomez. Non in tanti, Matteo. Non so quando sia uscita la notizia di Gomez, ma noi quando operiamo sul mercato, operiamo in maniera ben definita, senza parlare dei giocatori di cui siamo interessati, perché le trattative si portano avanti in maniera riservata e quindi come è stato per gli ultimi giocatori che sono arrivati e quindi l'obiettivo è di lavorare ancora sul mercato durante il corso dell'anno in base alle situazioni appunto che verranno decise dal Ministero, dello staff tecnico, dalla società e quindi sempre di rinforzare la squadra. L'obiettivo è sempre di rinforzare la squadra, quindi posso dirvi quello. Poi sul resto, sui nomi, poi lasciano a desiderare, nel senso che poi quando si fa le trattative si fa in maniera riservata, quindi poi tutte indiscrezioni, congetture, sono tutte cose che vengono scritte, ma poi tante volte non hanno neanche riscontro nella realtà, quindi insomma, fanno il titolo magari, ma non ci sono. Cardelli era in prova in questi giorni, il portiere Cardelli, quindi sappiamo che era qua in prova, avendolo visto pensi che fosse essere… Avendolo visto, ho visto tanti, nel senso che comunque in due giorni non posso dare una valutazione, ieri abbiamo preparato in vista della propatria qualche cosa tattica, mi sono soffermato su alcuni, qualche concetto, quindi non posso vedere il portiere. Il tempo è poco. Il tempo è poco, poi quando comincia la settimana tipo, sicuramente da qui a fine settimana prossima farò delle scelte, ma perché in questo momento io e la società insieme ci stiamo concentrando nell'ottimizzare gli allenamenti, cioè a me interessa la qualità dell'allenamento e il numero giusto per dare un certo tipo di qualità agli allenamenti, ma perché io sono a disposizione dei ragazzi, so che saranno scelte difficili, perché quando si fanno delle scelte, tra virgolette, concedete un termine per esclusione sportiva, sempre dettate dalle scelte, non è mai facile, però io il mio primo obiettivo, ho una rosa ampia, ho bravissimi giocatori, grandi professionisti, voglio ottimizzare l'allenamento e dare qualità all'allenamento. Quindi prima di parlare di nomi bisogna, tra virgolette, sportire. Infine poi mi taccio, hai trovato uno staff che ha lavorato per tutto l'anno, l'integrazione è stata naturale con loro? Naturale perché ho incontrato delle persone che sono dei professionisti, si sono messe a disposizione mia, in primis della società, credono che si possa fare un bel lavoro e quando si parla da professionisti credo che il processo è più veloce, e quindi vi ringrazio anche per come mi hanno accorto, non è semplice ma ho trovato delle persone disponibili, quando c'è disponibilità si può fare tutto. Si è parlato di... Per me, si è parlato di... Si è parlato di mister, si è parlato di errori tattici, tecnici in precedenza, però una considerazione, noi abbiamo fatto la Serie C a Lecco con i Saudati, con gli Otto, con gli Allegretti, con i Bortolazzi, la lista è lunga e almeno fino al 2012 erano stati dei buoni campionati. In questo momento mancano questi che si potrebbero definire top player, ci sono come ha detto lei, di bravi professionisti, di bravi giocatori. Cosa mi pensa di questo? Io posso ruotare la partita, posso ruotare la partita perché ad esempio parlo del girone del Rende o anche della Propatria che l'anno scorso ha vinto due anni fa il campionato di Serie D, ma il Rende ad esempio ha tenuto in blocco i giocatori di Serie D ispirando quasi il playoff, quindi secondo me... Ma ci vogliono i giocatori di categoria, può darsi pure che la maturità di un giocatore che ha militato sempre in Serie D per il quieto vivere o perché veniva più pagato in Serie D e quindi gli stava bene, affacciandosi in Lega Pro ci vuole anche del tempo perché la velocità di gioco è diversa, la fisicità è diversa, però credo che il bravo giocatore che ha ambizione e ha voglia di togliersi qualche soddisfazione può fare bene anche in una categoria superiore, i giocatori di Serie D sono arrivati in Serie A, ci sono poi dei giocatori che sono standardizzati di Serie D perché non hanno più il tempo a livello anche cognitivo e la voglia di provare a dare... Mi ha citato anche dei nomi che l'ho incontrato tutti e l'Ecletta è stato quello mio, l'ha chiamato anche ieri, mi ha parlato benissimo di LECO, quindi mi ha citato pure i giocatori che sono arrivati in Serie A, ma sono passati da LECO e sono arrivati in Serie A, quindi l'ambizione era ancora più grande e io i miei giocatori ho detto che voglio giocatori ambiziosi, se il giocatore non ha ambizione l'alleatore gli può dare tutti i concetti che vuole, non riesci a incontrare, se il giocatore ha ambizione e ha curiosità, secondo me, non dico che può arrivare in Serie A, ma si può togliere delle soddisfazioni. Un'ultima domanda mister, ma in questo momento lei nel suo esordio, nel suo protogo ha parlato di convinzione, di testa, è più importante la testa quasi che le gambe in situazioni in cui c'è un po' di maretta dal punto di vista dei risultati, o sbaglio? Assolutamente sì, la cosa che ho chiesto alla squadra è di darmi la stessa disponibilità che mi ha dato in questi due giorni, di metterla a disposizione domenica per la maglia, per il risultato, ma soprattutto di non fare una partita morale, non dobbiamo fare un'azione bella, se dovesse capitare un'azione bella, esaltarci e subire un errore, un'azione della propatria e deprimerci, perché questa altalena è pericolosa nel corso della stagione. Io ho chiesto ai ragazzi di cercare di concentrarsi soprattutto sull'aspetto morale, cioè rimanere concentrati su quello che è l'obiettivo finale e avere sempre un'identità. Ripeto, poi al di là del calo fisico, del calo mentale, ma il cambio d'umore mi piacerebbe non vederlo perché altrimenti fai 10 minuti bene sui 5 minuti male e la verità non si sa poi qual'è. Pirondini Francesco, giornale di Recco. Ripeto, tu volevo chiedermi una curiosità che avevo da anni, ma lei è vero che doveva passare a Real Madrid da giocatore? Io credo che mi avevi pure affanto a calcio. Esatto. Perché la curiosità è quella. Un giorno ve lo racconterò, però potevo passare a Real Madrid. Che anno stiamo parlando di questa storia? Eh, il 2008, eh no, sono dimenticato, c'è un po'. Sì, avevi un po' di carri posto. L'anno prima dei mondiali. Penso, da 2009. Perché è l'anno che ha fatto le presenze nazionali. L'anno che ha fatto le presenze nazionali è l'anno che avevo fatto un bicicolo. Eh, quello bisogna fare una chiamata tra Tom Pozzo e chiedere le dinamiche perché a me non me l'ha mai detto. Perché lì il Pozzo è perdente. La maglia di Sergio Ramos comunque lì. Però è, un giorno lo racconterò un po' più, ve lo vi racconterò un po' più. E poi ha un tuo modo di parlare con Gaburro? Cosa pensa dell'operato del mister? Il mister, onestamente, non lo conoscevo, non neanche il numero. Sicuramente lo saluterò, vi manderò un messaggio perché quello che ha passato lì quest'anno l'ho passato io l'anno scorso. Quindi capisco cosa si possa provare. Ho avuto a disposizione i suoi collaboratori che si sono messi a disposizione. Quindi questo momento secondo me è troppo fresca la notizia per cercare di un contatto. Ma di sicuro manderò un messaggio di bocca all'uovo perché sono fatto così.